oggi parliamo della segmentazione ma in modo particolare in un certo tipo di impresa che è quella all'inizio della fase del ciclo di vita cioè la startup l'avvio di impresa ebbene sì qualche volta qualcuno mi chiede se la discussione strategica abbia valore anche per un'impresa che sta nascendo o addirittura che non è ancora nata e la risposta è sì doppiamente sì perché beh perché per esempio io ieri parlavo con un imprenditore giovane che ha avviato una nuova attività e gli ho fatto una domanda riferita alla storia di quell'attività era una domanda precisa voi direte ma come fai a fare una domanda della storia dell'attività se è una startup semplice perché io ho studiato le altre attività e lui no allora il problema qual è il problema è che qualcuno si inventa in un'attività che può essere un agriturismo una biodiversità un'attività di ristorazione un'attività di commercializzazione un'attività agricola eccetera pensando di essere il primo il punto è tu sei il primo ma gli altri no allora la segmentazione del mercato è comunque importante se non ancora più importante e andare a studiare la storia di quel mercato quello che è già stato fatto in caso di startup è un'attività che in italia fanno in pochi per cui quell'imprenditore si è stupito del fatto che io conoscessi del suo settore della ristorazione delle cose che lui non conosceva lo stupore era il mio cioè tu dovresti sapere queste cose ora questo approccio che è un approccio evidentemente scientifico dottrinale è fondamentale nel successo del business a me è stato insegnato da imprenditori che poi divennero delle multinazionali e quotate in borsa ma che quando io avevo le braghette piccole già le braghette corte già mi insegnavano queste regole del gioco se io voglio entrare nel settore che ne so delle docette miscelatore monocomando per dire un tema di cui mi occupai quando all'epoca facevo ancora le ricerche di marketing e beh io devo sapere vita morte miracoli non solo del prodotto ma del settore e della storia del settore altrimenti mi avventuro a fare l'inventore in un settore che è già stato inventato e guardate che di inventori dell'acqua calda ce ne sono tanti quindi bisogna avere umiltà e andare a porsi due domande fondamentali primo quali sono i tipi di prodotti che io vado a servire in quel mercato e secondo quali sono l'abbiamo detto nelle precedenti puntate i customer group di riferimento la moltiplicazione degli uni per gli altri costituisce abbiamo detto i segmenti di mercato e ovviamente la segmentazione diventa a quel punto il cuore centrale di una strategia compreso la strategia di startup perché anche in fase di startup non tutte le segmentazioni sono uguali potremmo avere tre società di startup nello stesso settore che noi strategia chiamiamo industry che applicano distinte segmentazioni e conseguentemente politiche di differenziazione completamente differenti con diversi risultati e diversi successi ci vediamo alla prossima